Il Pescara torna in Serie B, parliamo di pallacanestro, dopo l'acquisto del titolo di Torrenova oggi a Palazzo di Città avete presentato programmi ed obiettivi, Presidente, il caso di dire. Siamo riusciti a riportare la città nel campionato che merita, Pescara è una città importante, gli sport devono essere di livello importante, quindi la Serie B la città la merita, noi sono due anni che arriviamo alla finale di Serie C, un anno l'abbiamo addirittura vinta ma abbiamo perso lo spareggio perché la formula prevedeva un ulteriore spareggio, l'anno scorso ci siamo fermati esattamente alla finale, quindi era un passo che volevamo fare, volevamo fare per la città, per i ragazzi, per tutto l'ambiente e ci siamo riusciti, in estate siamo riusciti a stringere questa collaborazione con Torrenova che voleva per motivi diciamo anche di palazzetto, per motivi oggi è difficile fare sport, quindi volevano cedere questo titolo, noi siamo fatti trovare pronti, l'abbiamo rilevato e quindi ci apprestiamo a fare questo primo campionato come Pescara Basche di Serie B con tantissimo entusiasmo e con tantissima voglia di fare bene. Avete anche annunciato due collaborazioni importanti con due realtà cestistiche, una abruzzese e una molisana. Sì, sono già anni che in realtà collaboriamo sia con Lanciano, Unibasca e Lanciano che con l'Accademia Isernia, sono innanzitutto le persone, c'è sinergia tra le persone, sono dei presidenti eccezionali, persone che fanno sport veramente per la passione di fare sport, quindi è nata diciamo anche da un'amicizia, da un bellissimo rapporto che si è starato tra noi presidenti e abbiamo deciso di fare un polo giovanile importante, ancora più importante di quello che ognuno di noi aveva, quindi di unire le forze e di provare con i nostri giovani di arrivare fino in fondo in tutte le categorie.